Da attori di lavoro, lavoratori, c'è uno squilibrio, c'è uno squilibrio di fatto, di potere di fatto e quindi la contrattazione, i contratti di lavoro non possono essere assorbiti dal diritto civile comune, quello nel quale nella contrattazione una parte sta sullo stesso piano dell'altra. Il diritto del lavoro nasce con l'esigenza di proteggere nella contrattazione la parte debole. Se viene meno questo elemento, ricadiamo nel diritto comune e viene meno il diritto del lavoro. Gli avvocati lavoristi non avranno più nulla da fare, i giudici del lavoro si troveranno senza una ragione di esistenza. E cosa ha fatto la nostra Costituzione per formare, per fondare un diritto del lavoro? Ha stabilito numerosi principi e ha dato al mondo del lavoro due strumenti principali, che sono il diritto di sciopero e la contrattazione collettiva. Molte volte mi sono trovato in difficoltà con i miei studenti, commentando articoli della Costituzione, in particolare questi, mi sono trovato in difficoltà perché vedevo benissimo delle loro espressioni che stavano pensando «Tu che cosa ci stai raccontando? Stai facendo ideologie? La realtà è tutta diversa. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro». Provate a dirlo a ragazzi di 19 e di 20 anni che si immaginano un loro avvenire nel nostro paese.